62. Parzialità. Che cos'è l'amore? Commento. Sarebbe meglio dire qual è l'unico motivo per cui siamo incarnati nella condizione umana. Noi viviamo la condizione umana per imparare ad amare. Prima le persone a noi vicine, i figli, i genitori, gli amici, eccetera, e poi, a mano a mano che l'evoluzione procede, gli altri, gli sconosciuti, il tutto. Dal neonato fino al santo, il compito dell'umano è imparare ad amare, tanto che anche l'assassino impara ad amare, perché il suo grado di evoluzione non gli permette di essere di più. Il suo amore, infatti, è ancora dolorosamente orientato verso la parzialità e non verso la totalità, che è l'ultima qualità dell'essere. Grazie. 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 Grazie.